La nota lieta nel cupello, il ritorno in panchina di Vito Marinelli nella trasferta di Martinsicuro che non si rivelerà una passeggiata soprattutto nella prima frazione di gioco, lo spunto di De Cinque, l'imbeccata per Nintè che all'interno dell'area gode di ampia libertà e timida la pressione dei difensori Truentini è già 0-1 in apertura ma Pizzi con caparbietà pareggia i conti come sottolineato, non è una partita scontata perché la reazione dei ragazzi guidati da Di Fabio è rabbiosa pur concedendo ampi spazi per le ripartenze dei medio vastesi ancora De Cinque ad apparecchiare per Nintè stavolta la porta è spalancata per l'1-2 Gregorio Ciutti inventa un fendente che ristabilisce il risultato prima dell'intervallo nella ripresa l'episodio della svolta di Serafino su De Cinque esita qualche istante Cristian Di Renzo poi la consultazione con l'assistente che lo convince ad assegnare un penalty tra le proteste inferocite di Guido Di Fabio Rigore di Tucci che spiazza Cannella e Cupello che mette la freccia stavolta in maniera definitiva felice che incorna ed eccolo qui il 2-4 si tratta della quarta marcatura personale in stagione per il difensore rosso-blu Nintè ha un conto aperto con il Martin Sicuro tre dei cinque gol in campionato li ha segnati proprio ai biancazzurri sradica il pallone dai piedi di Palladini se la prendono con il direttore di gara i tifosi Martin Sicuresi anche qui tutto regolare per Rella appoggia in rete e a tempo praticamente scaduto arriva anche il 2-6 siglato da Zinni punizione forse eccessiva per Cannella e compagni tre punti di capitale importanza per il Cupello che spugna il Tom Molini Oggi un'altra partita 90 minuti per te sappiamo che sei reduce da un grande infortunio è arrivato questo passivo diciamo così un po' troppo pesante però per la squadra sì oggi oggi la squadra veramente ha avuto una reazione bellissima siamo andati svantaggio abbiamo siamo riusciti a pareggiare la partita siamo tornati svantaggio nuovamente abbiamo pareggiato a fine del primo tempo e i ragazzi hanno dato cuore anima dispiace perché diciamo il vantaggio che il Cupello onore agli avversari sono stati veramente molto bravi però un episodio molto dubbio ti riferisci ovviamente a quello del calcio di rigore delle tre a due io purtroppo ero un po' lontano dalla traiettoria non ho visto bene però vedendo la reazione soprattutto del mio allenatore il mister Guido Di Fabio che è sempre una persona pacata una reazione così mi è sembrata strana al di là della partita contro lo spoltore è un ottimo periodo di forma per questa squadra sì sì effettivamente è un buon periodo oggi devo fare comunque i complimenti al Martinsicuro che ci ha messo in difficoltà ma io in tutta la settimana ho detto ai ragazzi che sapevo che questa era una partita difficilissima ha detto addirittura volevo ritornare a giocare a Chieti ma non qui a Martinsicuro perché sapevo delle insidie e così è stato perché comunque sono degli ottimi ragazzi guidati soprattutto da un grande mister quindi si vedeva che in campo loro erano messi bene ci pressavano alti noi a volte pensi sempre che vuoi fare qualcosa in più però due volte in vantaggio due volte siamo stati recuperati poi al secondo tempo c'è stato questo episodio poi dopo la partita è finita là ecco